Ciao a tutti, faccio questo video perché volevo raccontarvi una cosa che mi è successa un po' di anni fa, parecchi anni fa, che però fa riflettere sul rapporto tra le persone e le banche, soprattutto sul fatto che non dovete mai fidarvi delle banche. Mai, non fidatevi mai delle banche. Ok, detto questo vi racconto. Tanti anni fa c'era ancora la banca intesa, non era intesa a San Paolo, e io ero cliente di questa banca. Avevo un conto zero spese e zero interessi. Cioè, è un conto che costava zero, non mi dava niente di interessi, e avevo un certo numero di operazioni comprese nel costo zero. Quindi, oltre a quelle operazioni, pagavo le operazioni, ma finché rimaneva, se non mi ricordo cosa erano, 20, 30, non mi ricordo più il numero, comunque un certo numero. Quindi ogni mese avevo queste operazioni gratis. Era perfetto per la mia gestione. Io all'epoca avevo poche operazioni, anche perché usavo ancora parecchi contanti, quindi non avevo tutte queste transazioni da registrare. Se non che, a un certo punto, banca intesa, cosa fa? Decide di affidare tutta la gestione probabilmente a un ragioniere, un non so chi, cioè non so come loro sono arrivati a quest'idea del, veramente del cazzo. Praticamente, a un certo punto, arriva una comunicazione che dice, guardate, dal giorno tal dei tali, i conti cambieranno. Non ci sarà più il conto, zero spese, zero interessi, e ti pareva che un conto bello lo togliessero. Ma soprattutto, il conto funzionerà così. Se tu hai una giacenza media tra 0 e 500 euro, pagherai tipo 200 euro l'anno. E poi, con scaglioni da 500, adesso non mi ricordo, 1.500, comunque c'erano degli scaglioni, il costo scende. E se tieni una giacenza media, quindi non tieni quei soldi, tieni la media di 15.000 euro, non paghi niente. Ora, io capisco l'idea che ci sta dietro questa roba. Cioè, loro praticamente hanno detto, ok, uno che tiene pochi soldi per noi è un costo e basta, uno che ne tene tanti invece ci fa guadagnare. E quindi hanno cercato di disincentivare. Ma cosa si aspettavano? Che la gente di colpo buttasse soldi di dentro? Perché l'effetto che è successo è che la gente ha detto, ok, ragazzi, io ho pochi soldi e quindi me ne vado. Perché 200 euro all'anno per gestirmi pochi soldi, chi cazzo li spende? Mentre uno che ne ha meno 15.000 di giacenza media, secondo voi ha problemi a spendere 200 l'anno? Ovviamente no. Quindi intesa questa cosa non l'hanno capita, con il risultato che c'era la coda, me compreso, agli sportelli per andare via. Gente che chiudeva i conti. È stata una di quelle operazioni veramente... Cioè, non lo so, forse il loro scopo era mandarvi ai clienti, più probabile. Cioè, loro si aspettavano che mettendo questa regola la gente avrebbe buttato un sacco di soldi su un conto che non rendeva niente, soprattutto. Il problema è che la gente i soldi non li aveva. Cioè, chi aveva la gestenza media sotto i 500 euro, i soldi non ce li ha, appunto. Quindi non può neanche permettersi di spendere quelle cifre. E quindi c'è stato un sacco di gente andata via. Tant'è che, cosa è successo? Dopo, non mi ricordo, comunque qualche mese dall'introduzione di questa cosa, hanno capito che forse non gli conveniva, perché hanno perso un sacco di clienti. E il risultato è stato che hanno cambiato di nuovo le regole. Avevano creato un altro conto che costava comunque un centinaio di euro l'anno. Però era fisso, non importava la cifra. E hanno cominciato a fare persino la pubblicità in tv con vogliamo meritare, deve essere la vostra banca. Ora, io a oggi non capisco chi possa ancora essere cliente di Intesa, oggi Intesa San Paolo, perché, vi assicuro, è una banca de merda. Io, personalmente, adesso, da 7-8 anni, ho un conto che è zero spese, zero interesse. Cioè, io per il conto corrente pago zero. Ma zero. Anche le operazioni sono tutte gratis. Io pago zero. L'unica cosa che ho pagato in questi anni è stato gli interessi sul fido. Quindi, quando sono andato in rosso, ho dovuto pagare gli interessi, ma ho pagato gli interessi per quei 4-5 giorni in cui ho sforato e per la cifra che ho sforato. Quindi ho pagato 6 centesimi, 10 centesimi, cifre di questo tipo, in un mese. E basta. Io sono anni che non pago niente. Se voi pagate per il vostro conto corrente, vuol dire che la vostra banca fa cacà. O è cara. Magari ha i servizi migliori del mondo, però comunque vi fa pagare. Io ho il conto con l'ING, quelli del conto arancio, ho il conto corrente da 6-8 anni, e non pago niente. Rifletteteci perché 100 euro l'anno, magari uno si risparmia. Esco tra volta a cena. E quindi vedete voi. Niente, questo racconto l'ho fatto per raccontarvi perché non dovete fidarvi delle banche. Probabilmente farò una puntata 2 in cui vi racconterò invece un'altra disavventura che mi è successa sempre con i signori di Banca Intesa. Ciao, alla prossima!